mirate il costumino di sofia che bello con già il salvagente incorporato vedete qui sotto abbiamo il polistirolo girati amore fai vedere il costumino girati fai vedere eccolo qui che silhouette e adesso proviamo ad andare in piscina vediamo come galleggia questo coso qui sei pronta allora il costumino non è molto stabile cioè bisogna per forza tenergli le manine perché se no sotto con la faccia si ribalta fa tipo boa avanti e indietro sulla schiena e sulla pancia quindi insomma non è molto stabile però insomma è una maggior sicurezza ecco ci vuole sempre naturalmente un adulto no non bisogna mai lasciare i bambini incustoditi perché ricordiamoci che l'annegamento è silenzioso cioè non ce ne accorgiamo e bastano veramente pop i secondi quindi carini aiutano a stare a galla però mi raccomando sempre un adulto